buongiorno oggi volevo presentarmi i miei libri del grande naturalista inglese gerald d'arrel questo mia famiglia e altri animali è un libro di cui consiglio la lettura a tutti è bellissimo unisce naturalismo vacanze in grecia bellissime bellissime vacanze come lo invidio e le storie della sua famiglia bellissime storie della sua famiglia poi ho anche guida del naturalista ho scoperto di averlo oggi leggendo un post qui proprio su tik tok e la traduzione in italiano della mondadori molto bello anche questo qualunque ragazzo appassionato di natura lo dovrebbe leggere poi abbiamo storie del mio zoo poi abbiamo mia cugina rosi questo più che altro è un romanzo per ragazzi insomma giovani ragazzi poi abbiamo l'isola degli animali carino anche questo e il picchini che altri guai dove più che altro analizza l'animale uomo in particolare chi fa parte della sua famiglia consiglio a tutti di leggere al qualcuno di questi libri buona giornata